Ciao a tutti e benvenuti sul canale Bonsailiz. Con questo video oggi introduco un nuovo argomento nel canale, la tecnica della concimazione, una delle tecniche più importanti nella cura e nella coltivazione dei nostri alberi. Quindi, nonostante l'argomento sia abbastanza tosto, spero che possa essere un video interessante. I preliminari, come al solito, li abbiamo eseguiti, quindi vai con la sigla e ci vediamo dopo. Bene, eccomi qua quindi a parlare di concimazione. Ora, prima di iniziare a sviscerare questo argomento, credo che sia doveroso da parte mia fare una piccola premessa. Il tema della concimazione è uno dei temi sicuramente più vasti, complessi e in alcuni punti anche dei più controversi dell'intero mondo del bonsai. Per alcuni aspetti sicuramente il timore è quello di non fare un mero esercizio nozionistico e per altri punti invece ci vorrebbero delle competenze tecnico-scientifiche che io naturalmente non ho. Quindi il mio intento è quello di fare una serie di video su questo argomento, sulla tecnica della concimazione, il più completo ma anche il più semplice possibile. Il mio invito per chi volesse approfondire questo tema così importante nella contimazione del bonsai è quello di leggere dei testi, dei libri che approfondiscano in maniera quasi professionale questo argomento, come dicevo, così complesso. Ora, che cos'è la concimazione? La tecnica della concimazione è quell'azione mediante la quale noi andiamo a fornire elementi nutritivi alle nostre piante. In natura le fonti di approvvigionamento degli elementi nutritivi da parte delle piante sono tre, l'acqua, l'aria e il terreno. In particolare nel terreno si trovano disciolte delle sostanze nutritive che sono il risultato della decomposizione di materiale organico, quindi di foglie, di tronchi, di animali morti, di deiezioni che batteri, insetti e quant'altro decompongono e questa loro decomposizione rilascia nel terreno determinate sostanze. La pianta assorbe queste sostanze nutrienti dal terreno tramite le radici, grazie all'acqua, in quello che viene chiamato botanicamente linfa grezza. Questa linfa grezza risale fino al fogliame tramite il tronco e poi i rami e qui, grazie alla fotosintesi clorofiliana, avviene un processo chimico mediante la quale la linfa grezza viene trasformata in linfa elaborata, cioè in sostanze che la pianta può utilizzare per le sue funzioni. Questo è, in parole povere, naturalmente è molto più complesso di così, in parole povere è quello che avviene durante appunto la nutrizione della nostra pianta. Ora, naturalmente, nella coltivazione in vaso e quindi in particolare nella coltivazione del bonsai, l'elemento della decomposizione non può avvenire, proprio perché la pianta non è a contatto col terreno ma con una quantità limitata di terriccio che è data appunto dal contenitore, quindi dal vaso. Fermo restando le due fonti di approvvigionamento che rimangono uguali, quindi l'aria e l'acqua, è compito del bonsaista fornire determinati elementi, anche perché avendo appunto a disposizione la pianta una quantità limitata di terreno, gli elementi nutritivi contenuti nel terreno stesso si esauriscono in un breve lasso di tempo. Per compiere questa azione noi utilizziamo i concimi. Ora, gli elementi nutritivi che servono all'espletamento delle funzioni della pianta si possono catalogare in tre gruppi ben distinti. Il primo gruppo è il gruppo composto da carbonio, ossigeno e idrogeno che la pianta riesce a utilizzare tramite l'acqua e l'aria e sono elementi che vengono consumati in quantità molto abbondante dalla nostra pianta. Il secondo gruppo, chiamato macroelementi, sono quegli elementi che la pianta utilizza in quantità anch'essa abbastanza considerevole e normalmente vengono assorbiti dal terreno. Questi elementi sono l'azoto, simbolo chimico N, il fosforo, simbolo chimico P e il potassio, simbolo chimico K. NPK è una sigla che dobbiamo tenere bene in considerazione quando poi andremo ad analizzare quali tipi di concime noi possiamo utilizzare, proprio perché questa sigla, NPK, è la sigla che determina la titolazione del nostro concime. L'ultimo gruppo, che viene chiamato microelementi, sono quegli elementi nutritivi che la pianta consuma in quantità, diciamo, limitata, a volte anche infinitesimale, come il ferro, il calcio, il magnesio e altri elementi che poi vedremo un po' più avanti. La scelta di un particolare concime naturalmente dipende da diversi fattori, fattori sia oggettivi che soggettivi. I fattori oggettivi naturalmente riguardano la nostra pianta, quindi per esempio quale essenza noi andiamo a coltivare, che sia essa una caducifoglie, una conifera, una pianta da fiore, una pianta da frutto. Sicuramente incide in questa scelta anche l'età della nostra pianta, inoltre il suo stato di salute e soprattutto il suo stadio di sviluppo, cioè il livello che ha raggiunto il nostro albero. Un altro elemento molto importante per la scelta del concime è anche la stagione in cui ci troviamo, quindi avremo dei concimi particolarmente adatti nella stagione primaverile e concimi invece molto più adatti per la stagione autunnale. Vi sono poi in questa scelta del concime anche naturalmente degli elementi soggettivi, cioè che sono caratterizzati dalle nostre preferenze. Uno di questi potrebbe essere benissimo il tempo che noi abbiamo da poter dedicare alle nostre piante. Un altro fattore potrebbe essere la reperibilità di un determinato prodotto piuttosto che un altro. E ultimo, ma non ultimo, sicuramente anche il costo economico. Ci sono concimi organici importati direttamente dal Giappone che naturalmente hanno costi abbastanza sostenuti. Ora, come dicevo prima, la tecnica della concimazione è anche uno degli argomenti più discussi e più controversi nell'intero mondo del bonsai. C'è chi pensa che la concimazione sia un fattore marginale nella coltivazione delle piante, per altri invece è la panacea di tutti i mali. Ora, naturalmente la tecnica della concimazione è una tecnica molto importante perché ci permette di fornire gli elementi nutritivi che sono necessari alla sopravvivenza del nostro albero. Ma la tecnica della concimazione deve essere correlata all'utilizzo delle altre tecniche. Quindi è molto importante sapere come effettuare la concimazione, ma è altrettanto importante avere bene in mente quali sono gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere con una determinata azione, quindi con una determinata concimazione. Per fare un esempio, è inutile fornire il miglior concime del mondo ad una pianta se poi non si è in grado di innaffiarla correttamente. Oppure è inutile programmare una serie di concimazioni se non sappiamo qual è l'obiettivo che abbiamo in mente di raggiungere con quel determinato ciclo di concimazioni. In commercio, fortunatamente, negli ultimi anni abbiamo un'offerta di concimi che possono soddisfare tutte le nostre esigenze. I concimi possono essere catalogati in due gruppi distinti, il concime chimico e il concime organico. La sostanziale differenza tra le due categorie è la base di partenza. Il concime chimico è un concime di laboratorio, quindi viene assemblato unendo vari componenti chimici naturalmente, mentre il concime organico è il prodotto di una lavorazione di materiale organico che può essere di origine animale oppure vegetale. E capite benissimo che quindi la scelta che noi effettuiamo per utilizzare un concime piuttosto che un altro deve essere ben ponderata e deve essere finalizzata al raggiungimento di determinati obiettivi. Ora, entrambi i concimi, quello chimico e quello organico, hanno sicuramente dei vantaggi e qualche svantaggio. Il concime chimico, come dicevo prima, è un concime diciamo di laboratorio, tra virgolette, cioè viene assemblato unendo i vari componenti chimici partendo appunto da sostanze chimiche. Ora, uno dei suoi vantaggi è quello di essere immediatamente assimilabile della pianta, cioè una volta che io vado a elargire questo concime sulla mia pianta, la pianta ha immediatamente a disposizione quei determinati elementi nutritivi. Inoltre il concime chimico, soprattutto negli ultimi anni, è il risultato di una composizione molto equilibrata e quindi possiamo trovare in commercio concimi chimici che hanno, diciamo, tutti gli elementi nutritivi necessari alla buona concimazione della nostra pianta. Inoltre è inodore e non sporca il terreno, una cosa che è molto vantaggiosa, proprio perché non va a creare quella patina, quel residuo che invece fa il concime organico, andando a sporcare il nostro terreno e a creare ogni tanto una specie di barriera idro-repellente che impedisce la corretta innaffiatura della nostra pianta. Uno degli svantaggi principali dell'utilizzo del concime chimico invece è il dosaggio, cioè bisogna calibrare in maniera perfetta l'utilizzo dei vari componenti, anche perché se no si rischia quello che viene chiamato il sovradosaggio, che può essere molto deleterio per l'apparato radicale della nostra pianta. Inoltre, normalmente il concime chimico non interagisce con il terreno, quindi non va a migliorare la struttura, la reazione e altre componenti del nostro terreno. Il concime organico invece, come dicevo, è un concime che parte da materiale organico, che può essere quindi di origine sia animale che vegetale. Ha come sua caratteristica principale quella di un rilascio graduale nel tempo, tanto è vero che viene chiamato concime a lenta cessione e quindi non si può incorrere, o comunque sono casi rarissimi, non si può incorrere, dicevo, in quello che, come chiamavo prima per il concime chimico, il sovradosaggio. Quindi non abbiamo la preoccupazione di fornire troppe sostanze nutritive al nostro albero. Un'altra caratteristica fondamentale, molto importante del concime organico è quella di interagire con il terreno, quindi migliorando quello che è la sua struttura, quella che è la sua composizione e quella che è naturalmente la sua areazione. Gli svantaggi del concime organico sicuramente sono l'odore che emana una volta che comincia a decomporsi e quindi a rilasciare le sostanze nel terreno, la patina che crea sul terreno stesso, che a volte può causare qualche inconveniente durante l'innaffiatura, e il fatto di non essere appunto immediatamente disponibile. E quindi ci vuole un po' di tempo prima che le pastiglie, o comunque prima che il concime interagisca con determinati fattori che rilasci le sostanze nutrienti. E quindi bisogna programmare per bene e per tempo le varie concimazioni che noi diamo alle nostre piante. Per oggi direi che è tutto, ci vediamo dopo comunque per i saluti finali. Abbiamo visto quindi, abbiamo introdotto la tecnica della concimazione, che è come dicevo una tecnica molto importante perché fornisce alle nostre piante gli elementi nutritivi necessari per la loro sopravvivenza. Quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata e un buon bonsai a tutti dal vostro bonsai diz. Bene, eccoci giunti alla fine di questo primo video sulla tecnica della concimazione. Come dicevo durante il video stesso, è una delle tecniche e degli argomenti più vasti, più tosti da un certo punto di vista e anche più controversi nell'intero mondo del bonsai. grazie. Spero che possa essere stato un video interessante, se così è e vi è piaciuto mettete pure un mi piace qui sotto, se avete anche delle domande mettetele pure nei commenti e se vi va condividetelo sul web. Se non l'avete ancora fatto vi invito a farlo volentieri quello di iscrivervi al mio canale e alla pagina bonsai diz su facebook. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, una buona giornata a tutti e un buon bonsai dal vostro bonsai diz. Sigla.